Vieni con me e vedrai che il film di Wonka è un c***o di musical Può piacere o non piacere, però dimmelo Non ho il cappello a cilindro, ma se volete sottometto la mia wishlist di Amazon Me lo potete acquistare così faccio il cosplay di Wonka Di Gene Wilder, vista l'età Sigla! Bentornati nella rubrica film in uscita e bentornati nella rubrica monete di cioccolato No, non ho una rubrica monete di cioccolato, ho un problema con il cioccolato Ma questi sono affari miei personali che giustamente non penso vi riguardano Oggi parlerò con voi del film Wonka Prequel di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato O di Charlie e la fabbrica di cioccolato, scopriamolo insieme Prima di cominciare, mentre io mangio, vi consiglio di iscrivervi al mio canale Di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri Di condividere il video con tutte le persone che amano il cioccolato E di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo film Di questo video Scrivetemi qua sotto qual è la vostra versione preferita Dei film che finora ci hanno accompagnato Ovvero quello con Gene Wilder Quello con Johnny Depp Oppure questo con Timothée Chalamet Wonka film che parla delle origini di Willy Wonka Appunto il creatore della fabbrica di cioccolato Ovviamente le cose da dire su questo film Sono un po' comuni a tutti Io ho già addocchiato qualche altro video E più o meno siamo tutti concordi su Innanzitutto che nessuno aveva capito che era un musical Perché il trailer non lo lascia presagire Ricordo per esempio mi viene in mente un altro film con Johnny Depp Il protagonista che era un musical Che era Sweeney Todd Io ricordo che c'era Vedevamo palesemente Johnny Depp cantare in mezzo alla folla E da lì si poteva capire che il film era un musical Non è una novità che i musical in Italia non siano particolarmente apprezzati Quindi per me ci può anche stare che nel trailer italiano Traggano un pochino in inganno per far venire più gente al cinema Mi ha stupito molto capire che anche in America questo messaggio è andato un pochino in sordina Ed è molto strano per me perché per l'America, per gli USA Il musical è il loro non plus ultra dell'arte Loro non hanno una grossa storia artistica millenaria come qua in Italia E la loro più grande aspirazione artistica è appunto il musical Però se anche loro non lo hanno pubblicizzato come musical Vuol dire che le nuove generazioni non stanno più apprezzando questa loro forma d'arte Nostrana per loro, quindi Made in USA E che mi fa un attimino riflettere Ci dovrebbe fare un attimino riflettere su anche i nuovi gusti Delle nuove generazioni americane Però io sul fatto che è un musical ci posso anche passare sopra Perché onestamente non mi dispiacciono Come tutte le cose ci sono musical che mi piacciono di più Musical che mi piacciono di meno Proprio anche a livello di tipologia di musical Per esempio di recente ho apprezzato tantissimo Tick Tick Boom con Andrew Garfield Magari mi piacciono un po' di meno i musical che sono cantati dall'inizio alla fine Vi faccio due esempi Che tra l'altro sono anche eccezioni Jesus Christ Superstar e Rocky Horror Picture Show Io amo quei musical Però li avrei amati di più se ci fossero state più parti parlate Ecco io preferisco un buon equilibrio di canzoni e musica Forse mi hanno abituato così ai film della Disney Non lo so e non ero neanche un grande fan dei film Disney da piccolo Sta di fatto che preferisco un giusto equilibrio Quello che mi ha fatto storcere un pochino il naso all'inizio È che il film inizia con una canzone E soprattutto il film inizia con una canzone tradotta in italiano Il che mi ha fatto un attimino pensare subito al disastro Perché non sempre le canzoni tradotte in italiano Danno la giusta energia Il giusto significato anche Di quello che vorrebbero trasmettere le canzoni in lingua originale Devo però dire che dopo qualche canzone E soprattutto dopo la canzone Pure Imagination Che noi conosciamo in lingua inglese Posso ritenermi tranquillo del film che ho visto Perché mi sembra che le canzoni siano state tradotte bene Mi sembra che il messaggio sia passato molto bene E soprattutto non ho sentito quelle forzature di rima Che costringono probabilmente il traduttore a fare una scelta Le musiche sono... o meglio i testi sono molto fluidi E il film è comunque molto orecchiabile Non si sente stridere nulla nelle canzoni in italiano Perché questa scelta di fare le canzoni in italiano? Beh sicuramente essendo un film che è uscito nel periodo natalizio E che quindi porta molti bambini in sala È di più facile diffusione se il film non ha dei sottotitoli Se un bambino che magari non sa leggere bene e non velocemente Non che gli adulti lo sappiano fare Può fruire delle canzoni in italiano Magari cantarle, apprenderle, impararle Cantarle a sua volta E quindi io credo che sia stata questa la scelta Per cui le canzoni sono state tradotte E da questo punto di vista approvo assolutamente Quello che però ho apprezzato particolarmente In quanto vecchio di merda In quanto millennial In quanto persona nata nel 1985 È che questo film è palesemente ispirato alla versione con Gene Wilder E non a quella con Johnny Depp Che io non amo particolarmente Perché non mi ha trasmesso nulla di nuovo Ma anche perché ero molto grande Però so che questa versione, quella di Tim Burton Quella con Johnny Depp Invece è la versione che ha accolto le nuove generazioni La generazione Z Quindi gli attuali ventenni, gli attuali venticinquenni Amano di più la versione di Tim Burton Proprio perché ci sono cresciuti Ovviamente il legame infantile che c'è con un film È molto più forte di qualsivoglia giudizio oggettivo sulla pellicola Però sta di fatto che io In quanto persona più anziana Della media delle persone che sono su YouTube adesso Ho apprezzato questo film anche perché ho notato l'ispirazione Al film con Gene Wilder Banalmente posso dire Quando ho visto che Timothée Chalamet lo interpretava Che quindi ha i capelli ricci Esattamente come Gene Wilder In realtà non così ricci ma va bene così Ho detto magari si ispira È un omaggio a quella versione Nonostante comunque il cappotto Invece richiami un pochino di più quello di Depp Ma indubbiamente è l'Umpa Lumpa che ci conferma questa cosa Perché ha la carnagione, le sopracciglia, i capelli Esattamente come nel film con Gene Wilder Mentre se non ricordo male L'Umpa Lumpa Della fabbrica di cioccolato Con Johnny Depp invece avevano i capelli neri Semplicemente se non sbaglio era anche solo un attore Moltiplicato al computer Mentre gli Umpa Lumpa Della fabbrica di cioccolato Del 71 Erano diverse persone Tutte truccate allo stesso modo Quindi con i capelli verdi Le sopracciglia bianche E questa strana abbronzatura Da... Come si dice Da abbronzante finto Che gli dava un colore quasi aranciato Per non parlare della canzone Degli Umpa Lumpa La canzone degli Umpa Lumpa Che fa Umpa Umpa Dupadidu La sentiamo solo nel film con Wilder Nel film con Johnny Depp Invece ogni bambino Ha la propria canzone Ma perché questo ritorno Al film con Jim Wilder? Secondo me per il semplice fatto Che mentre Negli anni 2000 Quando è stato fatto il remake Della fabbrica di cioccolato Dal titolo Charlie E la fabbrica di cioccolato Proprio perché si voleva Concentrare il focus Su Charlie E non su Willy Wonka Come era stato Con il film con Jim Wilder Mentre Nel film con Johnny Depp Johnny Depp per quanto fosse eccentrico Non doveva essere il focus Della narrazione Doveva essere appunto Charlie Qua invece Negli anni 20 Del 2000 Stiamo attraversando Una fase Nostalgica Molto forte Lo abbiamo visto Partendo da Stranger Things Dove Citando gli anni 80 Abbiamo visto Che è una formula vincente Perché I bambini Di una volta Ora sono i millennial Sono O anche la generazione Z Sono quelli che pagano DPU Che spendono i loro soldi Incazzate Che fanno arricchire I franchise Ora c'è questo appunto Questo ritorno Alla nostalgia E quindi C'è stata una forte citazione È un forte richiamo Alla fabbrica di cioccolato Con Jim Wilder Proprio perché Non si voleva Assolutamente Discostarsi Da un prodotto Di successo Anzi Ci si voleva Riavvicinare di nuovo Quello che invece È stato forse L'aspetto Che mi è piaciuto Un po' meno Di Di questo film E sono Contento che non sono l'unico Ho visto per esempio La recensione sul canale Instagram Dell'Uomo che sapeva troppo Che Io volevo vedere La nascita di Wonka Cioè io volevo vedere Wonka Diventare Wonka Qui invece Willy Wonka È già Willy Wonka Non c'è un Un percorso Che lo fa diventare L'uomo eccentrico Che vedremo nella fabbrica di cioccolato Lui è già eccentrico A 25 anni Si spiegano vagamente Che quello che fa Quelle cose Magiche Che gli vediamo fare Sono date dalla sua passione Per la prestidigitazione Ma più di quello Non viene spiegato Noi lo vediamo già così E lo vediamo un pochino Fare il suo percorso di carriera Per creare un negozio Di cioccolato E poi nel finale Andare a pensare Anche ad una fabbrica Tra l'altro Il negozio di cioccolato Richiama tantissimo La fabbrica di cioccolato Persino L'avvelenamento Da cioccolato Dato Appunto Dai suoi concorrenti Citano Tantissimo Quello che succede Ai bambini Nella fabbrica di cioccolato Di Gene Wilder Il fatto che crescano i capelli Che si cambi I colori della pelle Che ci si ingrossi Che ci si gonfi Sono tutti richiami A quello che accade Ai bambini Maldestri Nella fabbrica di cioccolato Del 71 Come se Appunto col tempo Willy Wonka Si incattivisse un pochino E ripaghi subito La cattiveria Con Esattamente Così come Hanno fatto Con lui Nella scena Del negozio Quindi francamente Avrei preferito vedere Un Willy Wonka Crescere E diventare Lo stramboide Che vediamo Nel film di Wilder O anche nel film Di Depp Perché no Perché se anche Non si richiama Palesemente A un film Piuttosto che a un altro È comunque Lo stesso personaggio E anche omessa Tutta la parte Del padre Di Willy Wonka Che era un dentista Qua vediamo Semplicemente Un rapporto Con la madre E quindi Un'altra Giunta al fatto Che questo film È palesemente Ispirato al film Con Wilder E in ultimo Ripeto Come io volevo Vedere appunto La crescita Di Willy Wonka Avrei voluto Tutt'altro Dalla presenza Assolutamente Superflua Assolutamente Trascurabile Del Loompa Loompa Per me Non ha senso Vedere Quel Loompa Loompa Interpretato Da Hugh Grant Ha maggior ragione Dopo che Hugh Grant Ha detto che l'ha fatto Controvoglia L'ha fatto perché Aveva bisogno di soldi Non lo so A maggior ragione Vedere Uno Scusate Uno Hugh Grant Vedere Un'Humpa Loompa Con questo stile Molto inglese Molto british Cercare di Riprendersi Del cioccolato Per giunta Da solo E non Magari con Non so Un gruppetto Di Umpa Loompa Mi sembrava Una Una trama secondaria Assolutamente Superflua Ma soprattutto Mi sembrava anche Una trama secondaria Che non si sposava bene Con quello che poi sarebbe diventato Il rapporto tra lui e gli Umpa Loompa È stato salvato Con un Con un plot twist finale In cui si stringono la mano E pare che collaboreranno Ma non ha assolutamente senso Aveva forse più senso Se si faceva aiutare Da un gruppo di Umpa Loompa Poi per quanto riguarda Invece i suoi cinque amici Umani È comunque molto interessante Anche perché Se non ricordo male Tutte queste persone Che lui poi ritiene Una nuova famiglia Si possono un attimino Accostare anche Ai bambini Ai biglietti d'oro Che invita Che invitano i bambini Nella fabbrica di cioccolato Quindi è un richiamo Anche alla La versione più adulta Più anziana Di Willy Wonka Che cerca Tra i cinque bambini Nuovi papabili Cinque amici E tra Tra quelli Il futuro dirigente Della sua fabbrica Quindi questa cosa L'ho apprezzata Però magari avrei dato Spazio un po' meno A uno di queste persone Per esempio il comico Che mi sembrava Assolutamente inutile E ci avrei messo Magari Un numpa loompa Che si univa Alla ciurma E non questa Strana figura Che sembrava Che all'inizio Vedesse solo lui E poi appunto Si è rivelata Esistere veramente Ma Non lo so Non mi dava Mi sembra proprio Incollato Successivamente Alla trama Come se si fossero Dimenticati Che ci dovevano mettere Un numpa loompa Non lo so Se questo film Sarà l'inizio Di una trilogia Prequel Non so nemmeno Se sperarlo Perché per l'appunto Se già ci hanno mostrato Che Wonka Sta pensando Alla fabbrica Non lo so Avrei appunto preferito Vedere il primo film Di Wonka Dove Wonka Diventava Quello che è Abbiamo già visto Che ha creato Un negozio Che sta pensando Alla fabbrica Quindi non so Se faranno un sequel Ma è molto probabile Perché il film Sta andando Molto bene Fatemi sapere Voi cosa ne pensate Di questo film E fatemi sapere Quale chicca Quale citazione Avete trovato Ai film O anche al libro Di Roald Dahl Perché no Che richiamano appunto Qualcosa In questo film Io come sempre Vi ringrazio Per avermi seguito Fino alla fine Del video Con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E vi dico Buon Natale Perché con tutta probabilità Questo sarà il mio ultimo video Prima di Natale Tanti auguri Arrivederci Grazie